Tutto rinviato ad ottobre, le elezioni amministrative e quelle regionali di primavera slittano infatti al prossimo autunno a causa dell'emergenza coronavirus. Questa è la decisione verso la quale si avvia Palazzo Chigi, sebbene non sia stata approvata nell'ultimo Consiglio dei Ministri, che ha comunque varato il decreto liquidità e i provvedimenti per la scuola. Un rinvio di fatto inevitabile e scontato, ma mancava ancora l'ufficialità che arriverà a questo punto con l'approvazione del prossimo decreto. Sette le regioni attese alle urne, tra queste anche la Toscana, mille invece i comuni nei quali si dovranno eleggere i prossimi sindaci, tra cui anche Arezzo. E per quanto riguarda il comune capoluogo, al momento sono cinque pretendenti alla poltrona di Palazzo Cavallo. Il primo è l'attuale sindaco della città, Alessandro Ghinelli, che punta al secondo mandato. Luciano Ralli, già capogruppo PD in Consiglio Comunale, è invece il candidato su cui converge il centro-sinistra Aretino. C'è poi Daniele Farsetti, ex consigliere pentastellato, che si presenta con la lista civica patto per Arezzo. Michele Menchetti è stato invece scelto dal Movimento 5 Stelle. Ed infine Alessandro Facchinetti si presenta come candidato per il Partito Comunista. Intanto, sempre ad Arezzo, tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale, ovviamente in videoconferenza, in base alle disposizioni nazionali, e lo farà il prossimo 14 aprile. Sarà anche streaming per i cittadini.